La Palma d'Oro presentano una miscellenea di balli di gruppo con allievi che hanno frequentato i corsi principianti, intermedi, avanzate. L'esibizione sarà dai balli sociali a quelli coreografati e cui passi sono ideati su specifiche musiche. Ok? Allora, facciamo l'applauso perché stanno per uscire, ragazzi. Vai con l'applauso, l'incoraggiamento, forza, forza per i nostri palerini. Vai, vai con l'applauso. Il nostro tecnico è pronto? Allora, quando sono pronti qui davanti, io voglio sentire un bellissimo applauso, un caloroso proprio. Vai, vai, se no hanno detto che non ballano. E noi partiamo col primo brano, il tecnico penso è pronto, un attimo solo tecnico, il nostro tecnico Stefano, il nostro bassista. Buonasera maestro Quindino. Allora, siamo pronti? Maestra, mi fai un segno, maestra? Fammi un segno. A posto. Sono pronti. Vai Stefano, vai col primo brano. Scusa. E te? Lo puoi presentare tu, Francesca. Si va con gli anni 80. Vai. Vai. Con gli anni 80. Buonasera. 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 Ricordiamo i maestri di ballo Francesca e Nicola Cabriotti della Palma d'Oro. Grazie.